Intanto direi ringraziamento al Presidente Zaia per la fiducia e la grande opportunità, un incarico che mi carica anche di molta responsabilità perché la sfida è una sfida importante. Una sfida però credo anche stimolante nel senso di aver raggruppato l'assessorato sociale, servizi sociali e sanitario insieme perché sappiamo che i confini tra la parte sociale, soggio sanitario e sanitaria pure insomma è molto labile e quindi credo che qui potremo attuare anche quella famosa integrazione soggio sanitaria di cui il Veneto è sempre stato apripista in tutta la programmazione. Sulle sfide future sono le sfide legate ai provvedimenti che abbiamo già anche approvato, ossia il piano soggio sanitario 2019-2023 e quindi tutta la parte legata al territorio, la relazione tra la parte sanitaria e ospedaliera e la parte territoriale, la cronicità, l'autosufficienza, l'invecchiamento della popolazione e quindi la prima sfida, ma se vogliamo insomma il primo provvedimento, sono la prosecuzione del piano soggio sanitario con le schede ospedaliere, ossia i numeri. Mentre nel piano avevamo i contenuti, i programmi, le schede ospedaliere sappiamo ci sono i numeri. Il ringraziamento al Presidente Zaia per l'opportunità e la fiducia, una grande responsabilità, anche una grande sfida perché raggruppare l'assessorato dei servizi sociali e la sanità insomma ci dà una visione d'insieme e un'attuazione della cosiddetta integrazione soggio sanitaria. I confini sappiamo che tra una parte e l'altra sono confini molto labili. Cosa mi aspetta? Sicuramente attuare il piano soggio sanitario 2019-2023 e il primo passaggio sono sicuramente le schede ospedaliere.